Un piccolo disclaimer per questo video Premetto che non sono un motivatore Mi affascina moltissimo il modo della motivazione Ma non sono un tale che ti dice Non mollare Però questo video appunto parlerà del non mollare Comunque ti ringrazio per l'ascolto E goditi questo fantastico video Bella tutti ragazzuoli Oggi di che cosa si parla? Oggi si parla di un fattore che comunque limita molto Limita molto ma perché limita molto? Perché è quello appunto del non mollare Non mollare perché non mollare? Perché non bisogna mai mollare nella vita Nel senso bisogna sempre fortificarsi Bisogna sempre avere quella forza in più Di avere quella voglia di farlo Cosa credete che Lebron James Avesse sempre voglia di fare gli allenamenti? No eppure li faceva Perché non mollava Non mollava la presa Non mollava il tiro Quindi il mio discorso è Non mollare Te lo dico proprio a te Che magari sei in un momento abbastanza giù Che non ce la fai più E quindi non devi mollare Devi continuare Magari che sono una tesi di laurea da sostenere Devi continuare a starci dentro nello studio Magari che sono uno shooting importante domani Vai e continua a farlo anche se non guadagni una grande cifra Ma tu continua perché stai investendo anche su di te Non mollare perché veramente è una cosa fantastica il non mollare Non mollare è una cosa che bisogna imparare Non mollare perché Non mollare perché Perché magari domani il tuo progetto ti svolta Domani il tuo progetto svolta E quindi se tu molli il tuo progetto Non lo saprai mai se domani ti svolta o meno Ma domani magari ti svolta e tu non lo sai nemmeno Quindi se molli Chi molla Non va bene Chi molla non va bene Forza che c'è qua dentro E la forza che c'è qua dentro Che ci fa veramente andare avanti La forza che c'è davvero qui dentro Che ci fa svegliare al mattino Ed è la forza sempre che c'è qui dentro Che ci fa essere Uomini O donne Che sia Quindi il discorso del mollare Non è un discorso valido E se tu che mi stai guardando in questo momento Stai cercando di mollare Stai dicendo Boh basta Mando a quel paese tutto Ti stai sbagliando di grosso Perché tu a quel paese lì Non mandi niente tutto A quel paese ci vai tu Con l'idea lì Non mandi a quel paese A quel progetto Quell'idea che stai portando avanti Il prendere E lottare Della tua vita Devi prendere E decidere Già da adesso Che devi lottare Lottare Innalzarti E lottare Non da aiuto di più Questo insegnamento qui Isola un po' Dalla programmazione del canale Volevo semplicemente Condividerlo con voi E volevo darvi Questa spinta Questa spintarella Motivazionale Che Non fa mai male Ecco Ho fatto anche la rima Se il video ti è piaciuto Clicca mi piace qui sotto Nei commenti Dimmi la tua Di qua c'è il mio video Il mio ultimo video Di qua C'è Gli iscriviti Perché Iscriviti Perché se vuoi altre bombe del genere Adesso Mi informo un attimino Vedo un attimino Come va la situazione Ehi Almeno Una volta a settimana Diamo per le pillole del genere Io ragazzi vi saluto Un abbraccio E soprattutto Buoni scatti